Iniziata questa mattina alle 10.30 allo stadio Guido Biondi l'avventura ufficiale del lanciano targato da Versa. Vecchi e nuovi rossoneri si sono infatti radunati in sede per dare il via al nuovo corso. La seconda fase del ritiro si terrà invece dal 20 luglio al 6 agosto a Roccaraso. Il club virtussino non ha ancora potuto ufficializzare chi la guiderà in questa stagione. Non l'ha potuto ancora fare perché la Lega non ha ancora ufficializzato i nominativi degli ammessi al corso al quale dovrà partecipare da Versa per acquisire il patentino UEFA Pro, requisito necessario per allenare nel campionato di Serie B. Dunque il lanciano ce l'ha e come un allenatore si chiama Roberto da Versa. Nelle prossime ore la Lega, oltre a rendere nota la lista degli ammessi alla frequentazione del corso, formalizzerà contestualmente all'ex capitano del lanciano la deroga per allenare. Fra qualche giorno l'ex centrocampista nativo di Stoccarda diventerà ufficialmente il terzo allenatore della storia in Serie B del lanciano. Se la panchina è affidata a D'Aversa va comunque ufficializzato anche chi sarà il vice dell'ex centrocampista e capitano Rossonero. Il nome più gettonato è quello di Massimo Tarozzi che di fatto sarà l'allenatore quando D'Aversa dovrà frequentare il corso a Coverciano. Questi giocatori a disposizione del tecnico Rossonero, portieri Vincenzo Aridità, Costantin Branescu, Angelo Casadei, Lorenzo Cattafesta, difensori Federico Amenta, Antonio Aquilanti, Mattia Beia, Andrea Conti, Nicolas Di Filippo, Mario Esposito, Stefano Ferrario, Carlo Mammarella, Leonardo Nunzella, Edoardo Scrosta e Magnus Tröst, centrocampisti Davide Agazzi, Domenico Di Cecco, Fabrizio Paghera, Gaetano Vastola, Luca Verna, Attaccanti Gianmarco De Feo, Simone Fioretti, Antonio Piccolo, Babatiam Manuel Turchi.